Sì, 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 infatti era pubblicizzato anche alla televisione, io sono la televisione perché ho visto i pubblicizzati, solo che, come giuro, io poi non ero guardato a stare in giro, mi fanno, 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 mi fanno in giro delle ore, ore, io non ero, mi fanno, mi fanno, mi fanno 10 minuti, poi si vanno a fare la passeggiativa, questo come mi fanno solo la mattina alle 9 alle 2 o le 3, però si trova male, mi fondeva, mi fanno, se uno tiene, ho capito, mi va da parlare su lì, dicino, il bordo sotto, l'embo, la monna, diciamo, il bordo, l'embo, la v期azienza, l'embo, l'embo, la v期azienza, l'embo, la v期azienza, l'embo, la v期azienza, l'embo, il città, l'embo, la v期azienza, l'embo, la v期azienza, l'embo, la v期azienza, l'embo. è un massacro perché è caduta la montagna di me però è stato bellissimo, poi sono andati in questa tigetta con il pongo, c'è proprio tutto sabato tutto, tutto, tutto gli appunto abbiamo una tendenza però portati in giro noi andiamo qui bene, bene non ci siamo mai in giro facciamo riflettere io non sono mai in giro, forse ho fatto due anni non ci sono mai in giro non ci sono mai in giro